Una struttura insalubre, piena di amianto, dove non esiste neppure l'impianto di depurazione delle acque utilizzate per il lavaggio dei bus, costata negli ultimi 40 anni 10.000 euro al mese e dove sono occupati poco più di 10 dipendenti. Così il presidente della Società Tua, Gianfranco Giuliante, motiva la decisione di trasferirle il deposito di Via dei Peligni da Chieti a Pescara. È una situazione che si protrae nel tempo, è una scelta che comunque tiene conto anche della salute dei lavoratori, per pochi che possono essere che in questo momento insistono su un sito che non ha le caratteristiche previste dalla legge e io ipotizzo che al di là di quello che può essere il clamor, la necessità di muoversi in una logica di campanile, eccetera, non ci sia nessuno in termini politici e amministrativi che pensi di poter sostenere che un'azienda, una SPA che ha anche dei tagli cospigui, debba sostenere di affitto per una presenza irrisoria di personale in un ambiente che non ha le caratteristiche previste dalla legge. Contrarietà è stata espressa dal sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Io ho chiesto che venga sospeso immediatamente, ho fatto una nota che è partita questa mattina al presidente della giunta regionale e ovviamente al presidente di Tua, perché ci sia la sospensione di questo provvedimento, perché si ragioni insieme su quale possa essere la nuova o diversa allocazione dei locali da destinarsi al concessionario del trasporto pubblico regionale e quindi si possa conservare in città i 12 posti di lavoro e il piccolo indotto che evidentemente questi riescono a generare. Per concludere, Giulianti, cosa replicare al sindaco Di Primio che ha chiesto la sospensione dell'iniziativa? Replico semplicemente che probabilmente Di Primio non è a conoscenza, spero, di quella che è la realtà fattuale. Immagino che sia oggetto di un clamor ingiustificato per le motivazioni che ho appena detto. Grazie mille. Grazie mille.